ciao sono barbara logaglio e sono un'attrice cantante performer di musical quest'anno sulla piattaforma vi voglio proporre due tipi di corsi il primo è una preparazione di monologhi e dialoghi per fare provini al cinema oa teatro sia in italiano che in inglese come volete voi e per i meno esperti sempre monologhi e dialoghi che possono servire per entrare fare l'esame d'ingresso di accademia di musical teatro o di cinema ogni lezione dura un'ora e mezza vi consiglio almeno due incontri come minimo per prepararci meglio divertirci anche di più il secondo corso è strutturato in tre corsi differenti cioè io ho scelto tre opere di due pietre miliari del teatro del novecento che sono tennessee williams e john osborne di tennessee williams ho scelto due magnifici testi a street car named desire un tram che si chiama desiderio ricordiamoci la grandissima interpretazione di vivian lee al cinema teatro nel personaggio di blanche dubois e the glass menagerie lo zoo di vetro sempre un testo famosissimo interpretato sia al cinema che a teatro di john osborne ho scelto il suo cavallo di battaglia il manifesto degli arrabbiati look back in anger ricorda con rabbia questo corso è un corso collettivo prevede la partecipazione di almeno due persone e fino al massimo di dieci persone perché ogni testo e prevede 45 personaggi principali che si confrontano hanno dialoghi monologhi scene fra di loro quindi noi possiamo anche raddoppiare questi 45 farli diventare dieci quindi da un minimo di due massimo di dieci vi ricordo che il corso è interamente in inglese allora io vi aspetto numerosi iscrivetevi a questi due differenti corsi e ci divertiremo insieme quest'anno sulla piattaforma ciao